Eccoci qua, stiamo facendo un giro in montagna, la ripresa è più sopra al tetto del Depender. Il comodità è per prendere un po' di aria fresca. Anche per testare l'oristola, appena visionati, speciale, fortissima. Vediamo il territorio di sconfitto, le nostre montagne. Vediamo il territorio di sconfitto. Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai tranquillo. Vai. 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 Grazie a tutti.